39 anni fa la violenza criminale mafiosa uccideva una gente a polizia di Stato, Calogioro Zucchetto, coraggiosamente impegnato nell'esercizio del suo dovere accanto al Nini Cassarà. Siamo in anni terribili nei quali la mafia governava la città e uccideva a proprio piacimento i servitori dello Stato fedeli alla legalità. Ricordarlo è un dovere per tutti ma è anche un invito a fare memoria e a impegnarci perché non tornino più quei tempi terribili in questa nostra città.